La corrente mi sembra attiva. Speriamo il vento soffia ancora. Non credo che sia un problema. No, finalmente l'ascensore funziona. Andiamo! Prossima fermata alla cima della diga. Vediamo cosa ci aspettiamo. Vediamo cosa ci aspettiamo. Proviamo a non disturbare niente. Guarda, che c'è? Avanti! Perché l'hai detto? Un carrier! Guarda, che c'è? Units! 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 Ok, distrutto. Ora vanno a me. Ok, cerchiamo un altro modo per arrivare in cima. Che significa che dobbiamo andare all'esterno? Perfetto, sono sicuro che il tempo ci aiuterà. Ovviamente ero sarcastico. Se dobbiamo uscire questo, mi sembra il posto perfetto. C'è una doppia serratura, due interruttori. Mi serve aiuto. Allora, come procediamo? L'unico modo per passare è bloccandola. Forza, andiamo! È stato facile. Meno male, perché dobbiamo farlo di nuovo. Meno male, perché dobbiamo farlo. Meno male, ma altra? Meno male, ma altra... Grazie.